Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. La puntata di Uomini e Donne ha regalato un momento di grande emozione con la scelta finale del tronista Daniele Pau dice. Daniele ha deciso di uscire dal programma con Gaia Gigli, una scelta che ha toccato il cuore di molti spettatori, nonostante i rumors che insinuavano una conoscenza pregressa tra i due. La corteggiatrice Marika Abbonato, visibilmente commossa, ha commentato con sincerità la decisione di Daniele. Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli no qualora avesse scelto me. Gli avrei detto di no, ha dichiarato Marika, sottolineando come si sia sentita trattata come un amante durante tutto il percorso. Marika ha anche confessato di aver visto sempre Daniele felice in esterna con Gaia, rimpianto proverando se stessa per aver accettato questa situazione. Durante la puntata Daniele ha trascorso del tempo sia con Gaia che con Marika, cercando di esternare i suoi sentimenti prima di prendere la decisione finale. La scelta di Gaia è stata accolta con reazioni contrastanti dal pubblico. Alcuni hanno insinuato che la loro storia fosse già scritta, mentre altri hanno percepito una genuina emozione e hanno apprezzato la sincerità dei sentimenti espressi. Che ne pensate? Ha scelto bene Daniele? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!